Cambiano le pensioni, a gennaio scende il cosiddetto coefficiente di trasformazione e l'allarme è lanciato dalla Will Marche. Intanto la media delle pensioni erogate nelle Marche si conferma più bassa di quella nazionale. Analisa Serpilli. Basta aver aspettato un mese a cavallo tra il 2020 e il 2021 per percepire una pensione più bassa. È l'effetto del sistema contributivo che dal 1 gennaio ha cambiato a ribasso il cosiddetto coefficiente di trasformazione, cioè a quei valori che concorrono al calcolo della pensione. Dal 1 gennaio 2021, a parità di condizioni con chi invece ci è andato nel 2020, si trova con una pensione più leggera. Parliamo di circa 70 euro a noi per un importo lordo intorno ai 1500 euro, per arrivare a 170 euro per pensioni lordi di 2500 euro. Soldi in tasca in meno per portafogli già molto leggeri. La media delle pensioni marchigiane infatti è più bassa di quella nazionale. 465 mila gli assegni erogati dall'Inps in regione, 818 euro l'importo medio a fronte dei 983 in Italia. Dipende dalla qualità del lavoro, quindi i lavori meno retribuiti di qualità minore, e poi dipende dal fatto che si comincia a lavorare tardi e dal fatto che, per esempio, noi abbiamo molto part-time involontario, soprattutto per quello che riguarda le donne, che sono chiaramente ancora più penalizzate da questo tipo di sistema. Secondo l'analisi del sindacato, nelle Marche si è verificata la tempesta perfetta. La crisi economica che si è abbattuta sui distretti, il fallimento di banca Marche, il sisma e per ultima la pandemia hanno infatti creato disoccupazione, precarietà, eroso ricchezza e pensioni. Proponiamo che, ad esempio, questo coefficiente venga considerato per fasce di età. Nel momento in cui decido di andare in pensione, so già qual è il mio coefficiente. In questo caso io potrei decidere di rimanere volontariamente al lavoro, in quanto non dovrei temere di avere un coefficiente che poi mi penalizza, perché magari vado in pensione più tardi.